Un custom che mi è arrivato da poco, di Eros Sonvilla. Fogero fatto sempre da lui, in pelle. La manicatura è in corno a bovino, molto bella e particolare. Questo modello è lasciato con la lama Brutteforge, adesso vi faccio vedere. Come dicevo la manicatura è molto bella, crea una curva perfetta, sia in una maniera che in un'altra. Anche ben fatta la guardia, l'Elsa. Veramente un ottimo lavoro, da quello che posso vedere io. Qui c'è il logo del costruttore, Eros. Il coltello è un bowie, con lama lasciata Brutteforge, però con una particolare lavorazione a rilievo. Davvero molto, molto bella e ben fatta. Il resto della lama è portato a specchio, ha un falso controfilo, lo spessore, se ricordo bene, 6 mm. Come vedete, la lavorazione è ondulata del Brutteforge. Il coltello è davvero tra i più bei custom che ho visto. Si impugna in maniera eccellente. Davvero molto, molto bello. Custom Bowie Brutteforge di Eros Sonneville.